La Marina In che senso? Non te lo dico abbastanza, sono fiera di te. Sei un padre stupendo. Non la preoccupa questo episodio, o cosa può succedere? Sono pronto a incontrare Dio. E a rispondere di ogni singolo sparo. Che cazzo fai? Puttalo via subito. Quindi sei in Germania o... dove? Sono in America. Sei qui? Ma... che stai facendo? E che mi serviva un attimo. La cosa che mi tormenta sono quelli che non ho salvato. Ehi! Vada subito da mia figlia, per favore! E sono pronto. Oddio! E sono pronto a tornare a casa. E sono pronto a tornare a casa. E sono pronto a tornare a casa. Grazie a tutti